un po' dentro intanto spiega cosa dovete fare allora praticamente noi dobbiamo fare in modo di mettere di lanciare un uovo da un'altezza di più o meno questa e non farlo cadere cioè non farlo rompere e avete a disposizione palloncini palloncini, sale cereali, amido di mais e farina e acqua e acqua volendo possiamo mettere dentro anche gli scottex la sfida è partita da? 10 minuti e avete un'ora si cerca 3 2 1 vai io non l'ho sentito si 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 non l'ho sentito non l'ho sentito si Grazie.